E' l'amore, è l'amore, l'amore, l'amore. Che cos'è l'amore? Io di certo non lo so. Ma mi compenso, ho scoperto che cos'è l'emerenziano baloncino. Avviso di accertamento di valore. Ma che cosa significa? Oh, insomma, significa che vogliono accertare il valore della casa che il povero papà ci ha lasciato. Ci sarà pure un funzionario pubblico che mi sappia rispondere. Venga a prendere il caffè. Non ti conosciamo più! Le signore sapevo che mi spaventano, vero, che gli uomini in questa casa non erano mai entrati a parte. Il dottor Raci, il preposto e il don Casimiro. E ovviamente il povero papà raccita l'anima sua. Il dottor Raci, il dottor Raci, il dottor Raci, il dottor Raci. Il dottor Raci, il dottor Raci, il dottor Raci. Grazie e il biscoffio. Grazie. Grazie. Che persona distinta. Vuole caffè? Tè? Nè? E allora io. Oh! 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 La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. Da tre nelle marce se ne può ricavare. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. Hola, signora. La bellezza non conta a lui e nemmeno. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. La bellezza non conta a lui e nemmeno le dà. Una sinfonia. Ecco. Ecco, hai detto, questo è il letto della Tarsiga, questo è quello della Camilla. Noi tre, più che mangiare, lo nutriranno. Uova, pesce, tonte, forse volar manci con il manzo e vitello. Svitello, ammazza Gaffè! Cegno Puntieri, primo battaglione, seconda compagnia. Porca, porca! Cade la uova, bravi la tuoi! Andiamo da qui! 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 Ce è così, Teleslami e lasso. Cos'è? Laیا! Grazie a tutti. Grazie a tutti.